Abbiamo gli ultraottantenni che praticamente sono vaccinati tutti, gli ultrasettantenni anche loro con delle percentuali che superano abbondantemente l'80%, i settantenni anche loro si avvicinano all'80%, le altre fasce d'età sono praticamente in sicurezza perché quelli che sono i dati dell'immunità di greggio sono stati raggiunti. La campagna vaccinale dell'Ust3 Serenissima sta procedendo a pieno regime e anche l'idea dei vaccini on the road con il camper si è dimostrata vincente. È stato un buon risultato, avevamo previsto questo fine settimana 230 dosi che sono state somministrate tutte tra venerdì e domenica, abbiamo somministrato del Johnson & Johnson proprio perché in monodose ha ultra sessantenni e le cose sono andate benissimo e il tentativo è quello di raccogliere anche gli ultimi indecisi. Questo progetto sarà portato avanti in tutte le altre realtà. È stata una settimana importante perché ha portato alla conclusione delle vaccinazioni domiciliari e ora si aprono ulteriori prospettive con l'arrivo di nuove dosi di Moderna ai medici di base. La nostra dotazione passa da AstraZeneca a Moderna e quindi per noi si amplia logicamente tutta la potenzialità di vaccinare praticamente tutte le classi dai 18 anni in su comprensivi anche quelli oltre i 60 anni che dovessero ancora non essere stati raggiunti per cui possiamo disporre veramente di un vaccino universale. Per quanto riguarda la prenotazione della seconda dose che potrebbe cadere nel periodo in cui sono state prenotate le vacanze estive, l'Ulstre commenta Chiedo alle persone che anche chiedono spostamenti di capire quali sono i reali margini di manovra dei nostri operatori nel territorio e abbiamo dato indicazioni a tutti i nostri operatori di venire in conto all'esigenza all'interno di questi intervalli.